Mi sono svegliato felice e mi faccio pancake per andare a coccolarmi ancora di più. Pancake ai mirtilli, proteici, vediamo un po' gli ingredienti. Allora, farina di avena, bicarbonato, farina di mandorle, yogurt greco, latte vegetale, questo dove è? Bianco d'uovo, succo di lime, mirtilli, miele e marmellata alla fragola. Quindi mettiamo la farina di avena, la farina di mandorle, il bicarbonato e mescoliamo per bene fino a fare amalgamare tutti gli ingredienti. Poi mettiamo gli ingredienti umidi, lo yogurt, il bianco d'uovo, il latte di mandorle, il succo di lime. Con una ciotola mescoliamo bene, adesso appena prendo un cucchiaio pulito gli aggiungo anche il miele. Mescoliamo un attimo con un cucchiaio, dopodiché puliamo tutto, con la frusta andiamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Ultimi ma non meno importanti i mirtilli, quasi tutti, ne teniamo qualcuno per l'impiattamento. Mescoliamo e aggiungiamo tutto questo benedio agli ingredienti secchi. Uniamo gli ingredienti secchi ai liquidi, continuiamo a mescolare e andiamo a cuocere i nostri pancake. Meravigliosi pancake. Ci tenevo a farvi vedere la consistenza, è questa qua, e andiamo a cuocere un paio di minuti al lato utilizzando un po' di olio di cocco sul fondo. La padella leggermente oliata con l'olio di cocco, mettiamo il preparato per pancake sul fondo e lo distribuiamo nella padella. La padella leggermente oliata con l'olio di cocco, mettiamo il preparato per pancake sul fondo e lo distribuiamo nella padella. Vi faccio vedere un metodo per girare i pancake semplicissimo. Li mettete su un piatto, tornate sotto con questo e li rimettiamo a cuocere. I pancake sono pronti, gli aggiungo della composta di fragole, Oliver apprezza. Completiamo con dei mirtilli che sono qua. E buona colazione.